Cari Geek, oggi vorrei condividere con voi due notizie. La prima, l'11 di settembre l'ANSA lancia una notizia. Il Covid fa crollare l'occupazione in Italia. Vanno vale purtroppo soprattutto i giovani. Questa è una notizia che nasce dalla rilevazione fatta dall'Istat. Nel 2020 gli occupati calano di 841.000 unità. Al tempo stesso, qualche mese prima, uno studio di Union Camere riportava le aziende non riescono a trovare profili per un importo pari a 350.000 unità. Ossia su 1.100.000 opportunità di lavoro, di offerte di lavoro, non riescono a trovare il 35%. Queste professioni, questi profili professionali che non riescono a trovare sono essenzialmente profili professionali legati alla data economy. Parliamo di data scientist, data analyst, esperti di cybersicurezza, ingegneri 4.0. È interessante ricordare anche quello che ha detto l'amministratore delegato di Microsoft qualche giorno fa. La crisi del Covid ha accelerato di ben due anni la digital transformation. E la digital transformation è essenzialmente collegata a quella che è la data economy. Noi sappiamo che i nuovi lavori sono tutti collegati al mondo della data economy, legati al mondo dei big data, legati al mondo della cyber security, legati al mondo dell'automazione. Ecco, questi sono i profili che mancano all'appello. In particolare nello studio di Union Camere si legge che la criticità nel trovare profili professionali va da un 35% fino addirittura al 65%, leggo proprio precisamente, di specialisti in scienze informatiche. Che cosa significa questo? Che su dieci posti di lavoro, su dieci offerte di lavoro, di ricerca di profili in ambito informatico, più di sei non si trovano. Questo significa che se vuoi trovare lavoro nei prossimi anni devi decidere di stare dalla parte giusta della storia. Devi decidere di lavorare in uno dei nuovi ambiti creati dalla data economy. Per fare questo scegli Geeks Academy. Noi da cinque anni offriamo percorsi di formazione nelle nuove professioni della data economy. Cyber decidi di stare dalla parte giusta della storia. Scegli Geeks Academy. Stay Geek!